Una serata dedicata alla salute delle donne per promuovere la prevenzione di artrosi e osteoporosi. Manuela Lucchini. Sensibilizzare le donne in modo che facciano prevenzione contro artrosi e osteoporosi. Si può fare in tanti modi anche con una serata al Parco della Musica di Roma con moltissimi ospiti famosi. Da Claudia Gerini alla cantante Elisa, a Dodi Battaglia, a Gigliola Cinquetti. Perché è importante dare un messaggio alle donne? Perché le donne sono belle, preziose, brave e devono coccolarsi, curarsi perché tendono un pochino a trascurarsi. Da 17 anni il professor Francesco Bove, presidente della Fondazione Aila, dedica questo premio a chi si è in qualche modo speso in favore della prevenzione della salute delle donne. Slogan di quest'anno, non mollare l'osso, muoviti, metti l'aila ai piedi. Vogliamo sottolineare l'importanza degli stili di vita. Primo tra tutti il movimento, quindi muoviti per la salute delle ossa. Ospite d'onore l'astronauta Paolo Nespoli, che ha parlato della perdita di calcio che avviene nelle ossa se si sta nello spazio e degli studi che questa situazione permette di fare. Qui sulla Terra, e l'appello che si fa soprattutto alle donne, bastano invece uno stile di vita sano, vitamina D e tanto, tanto movimento.